Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi riprendiamo un pochettino l'argomento Broadlink. Perché? Perché in tanti ci avete fatto notare che avete problemi sempre col Broadlink, l'RM Mini 3 piuttosto che il 4, in verità più col 3 che col 4. E purtroppo abbiamo avuto problemi con YouTube e il video che avevamo caricato qualche mese fa dell'RM Mini 3, che era una guida molto completa. Purtroppo alcuni pezzi di audio non è stato possibile recuperarli da YouTube e quindi purtroppo ci hanno detto il video ve lo tenete così. Va bene, per adesso sinceramente non riusciamo a creare nell'immediato un altro video su questo. Vi chiediamo però di farci sapere qui sotto nei commenti se per caso volete un altro video molto dettagliato per quanto riguarda la configurazione dell'RM Mini 3 vedremo di organizzarci e di rifarne uno. Prenderemo una giornata. Ecco, mi ha rubato le parole dalla bocca perché per fare quel video mi ricordo che siamo partiti la domenica mattina alle 10 e abbiamo tirato più o meno alle 6.30-7 di sera. Quindi quando ci scrivete che avete avuto problemi... Vi capiamo. Vi capiamo perfettamente perché noi veramente ci abbiamo messo tanto di quel tempo. Solamente per la configurazione è stata una cosa incredibile. Comunque, senza dilungarci troppo, oggi volevamo appunto dopo un po' di tempo che utilizziamo questi prodotti farvi sapere la nostra per quanto riguarda i termini di paragone tra un prodotto RM Mini 3 ed RM Mini 4 in modo tale da chiarire un attimino le idee a chi eventualmente vuole approcciare a questo mondo della domotica potendo acquistare dei prodotti che rendono smart qualsiasi prodotto riesca a ricevere un segnale infrarossi e quindi analizziamo un po' i pro e i contro di questi due prodotti. E poi vi daremo una valutazione finale. Ma io direi prima di tutto questo di ricordarvi di iscrivervi al canale ma soprattutto di attivare la campanella in modo tale da ricevere le notifiche quando cariceremo dei nuovi video. Ma detto questo io direi di lanciare prima di tutto la nostra sigla! Portiamo subito col Broadlink RM Mini 3, il vecchietto di casa Broadlink. Questo prodotto lo abbiamo acquistato e l'ho installato qui in casa mia perché comunque ci serveva un prodotto di domotica che potesse dare la possibilità ai possessori di Alexa di avere un prodotto che comandasse il televisore, il climatizzatore, lo stereo, l'on theater, tutto ciò che ha degli infrarossi, che riceve degli infrarossi per poter essere comandato. Partiamo con i pro di questo prodotto. Allora prima di tutto direi che l'app da subito IHC4U è stata completa. Assolutamente sì, c'è da fare appunto un distingo. Quando è uscito l'RM Mini 3, Broadlink aveva pensato ad un mercato europeo e ad un mercato extraeuropeo. Quindi se siete dei possessori di Broadlink in Italia, ad esempio, dovete scaricare l'app IHC4U. Questo vi dà la possibilità di poter remotare il vostro prodotto senza nessun problema. Tant'è che parecchie persone che ci hanno scritto hanno reso questo prodotto perché magari scaricavano l'altra app e non si rendevano conto che non era più tanto compatibile, cioè non era per niente compatibile con il nostro, con il Broadlink qui in Europa. Quindi questo diciamo che è stato un bene da una parte perché ha fatto sì che l'app fosse completa e specifica per gli utilizzatori in Europa ad esempio. Esatto. Questo fatto dell'app completa ci porta al secondo pro del 3 che sarebbe la possibilità di creare scene complete che poi è il punto forte del 3. Quindi creando le scene potete fare tutto ciò che potete utilizzando il telecomando fisico, diciamo. Altro punto che sicuramente ha fatto sì che parecchia gente andasse ad acquistare questo prodotto per la felicità di Broadlink è stato il prezzo. Stiamo parlando di un prezzo di circa 18-19 euro. Quindi Broadlink vi ha messo su un piatto d'argento la possibilità di poter comandare vocalmente qualsiasi dispositivo voi abbiate a casa. Cosa non da poco. Esatto. E per i pro direi che abbiamo finito. Sì. Anche perché non abbiamo voluto approfondire la questione dell'app perché comunque l'app è abbastanza complessa ma dà molte possibilità. Cioè riuscite veramente a prima o poi a comandare qualsiasi cosa. Esatto. Sì sì tranquillamente. Poi si era creato anche un database di persone che avevano caricato i propri telecomandi e quindi era diventata veramente fatta bene l'app IHC4. Era molto completa. Però purtroppo adesso passiamo alle noti dolenti. Passiamo ai contro perché per tutte queste belle cose ce ne sono tante altre brutte. E ne sappiamo qualcosa. Abbiamo veramente una sfilza di vostri commenti. Vi ringraziamo naturalmente. Abbiamo cercato comunque sempre di aiutarvi ma dai vostri commenti parecchie persone hanno avuto parecchi problemi con questo prodotto. Prego. Partiamo dicendo che visti tutti i commenti appunto non è un app non è un dispositivo un'app molto intuitiva di per sé. Non è di facile configurazione quindi si riscontrano molti problemi già dal semplice associamento associamento associare dall'associare dalla semplice associazione tra il broadlink e il nostro bel dispositivo Amazon. Già lì ci sono parecchi problemi. Non ci si connette col 5 GHz ma solo il 2,4. Tanti non sanno come farlo ma noi abbiamo creato anche un video con tante problematiche come risolverle e vi mettiamo qui la scheda. Assolutamente sì. Altro enorme problema è il crash dell'app. Cioè improvvisamente soprattutto Michi che gestisce molto bene le risposte del canale si trovava bombardato di messaggi improvvisamente tutti insieme dicendo non mi funziona più nulla. Sì fino a ieri o fino a un'ora fa funzionava tutto adesso basta. Esatto. Come diceva prima Marco in quel video che abbiamo fatto comunque tenete presente che è un server che è in Cina con un fuso orario totalmente diverso dal nostro. Quindi quando loro facevano manutenzione che magari da loro era notte da noi qui in Italia era giorno. Esatto. E quindi noi ci trovavamo a picco con il nostro prodotto e ne pagavamo noi le conseguenze. Altra cosa che abbiamo riscontrato il posizionamento del broadlink fisicamente sul mobile piuttosto che da qualsiasi altra parte doveva essere in linea retta col prodotto da comandare e per di più doveva essere assolutamente privo di qualsiasi cosa gli potesse dare impedimento. Quindi anche se c'era la foglia della pianta che si andava a mettere sulla linea retta tra il broadlink e il televisore parecchie volte questo faceva un po' il capriccioso e cinque volte non funzionava tre volte sì quindi dopo un po' uno dice prendo il telecomando e schiaccio faccio prima. E purtroppo è abbastanza sofisticato anche in questo. E passiamo anche alla skill di EHC quindi sul dispositivo Alexa. Cosa succede? Tantissimi tantissimi compresi noi nel nostro video di installazione l'abbiamo installato associato al nostro wifi e la skill e quindi il nostro dispositivo non trova i dispositivi come il televisore come la radio come il climatizzatore anche dopo 10 20 30 tentativi il problema rimaneva sempre lì e si risolveva magicamente o meglio dopo 10.000 tentativi si risolveva. Tra reset del telefono, accendi e spegni, resetta di nuovo il broadlink, dice Marco, compariva tutto ma anche le scene stesso problema anche l'importazione delle scene era qualcosa di fenomenale cioè nelle nove ore che ci avevamo messo più o meno per riuscire a configurare quel diavoletto nero lì ci ha fatto veramente penare e quindi purtroppo noi ci aspettavamo degli aggiornamenti che risolvessero in maniera molto pratica e molto veloce determinati problemi ma purtroppo non è avvenuto hanno pensato bene invece di fare un broadlink 2.0 che infatti è uscito il famoso broadlink rm4 dopo vedremo dopo vedremo e non vogliamo anticipare adesso finiamo col 3 e l'ultimo contro che ci sentiamo di segnalare è che vedendo poi i contro del 4 della nuova app ti verrebbe da dire vabbè ma io uso i hc4u mi prendo tutto quello che ho già creato lì c'è tutto ormai dopo che ci sono impazzito per mesi ma adesso mi funziona veramente tutto invece no i hc4u non è compatibile per il 4.0 sottolineiamo che per tutti questi contro assistenza broadlink ufficiale non serve molto sinceramente noi abbiamo provato anche a suggerire nei casi più estremi di contattare l'assistenza sono tornati a chiedere nuovamente a noi o comunque alla fine si sono arresi veramente presi dallo sconforto e hanno reso il prodotto perché perché comunque non volevano più perdere troppo tempo diciamo che ci sono dei concorrenti che costano dieci volte di più di questo che però ti garantiscono una resa eccezionale senza non l'abbiamo ancora provato attualmente probabilmente in futuro magari ci faremo un pensierino anche noi ma per adesso ci stiamo rivolgendo ad un pubblico che utilizza il broadlink passiamo a quello che sarebbe dovuto essere il prodotto perfetto la speranza per tutti i nuovi utilizzatori di broadlink il prodotto che ci avrebbe fatto configurare tutto in un batter d'occhio che non avrebbe creato alcun problema passiamo all'rm mini 4 vediamo i propri ma dai la cosa che ci ha colpito immediatamente non appena abbiamo estratto l'rm mini 4 dalla confezione il contenuto è sempre uguale 3 4 ti danno le stesse cose diciamo che nel 4 però si sono inventati una specie di bottone passatemi il termine nella basetta che si può svitare lo fissi al muro da qualsiasi altra parte con una vite e lo puoi avvitare quindi hai più possibilità diventa un po più duttile per quanto riguarda il posizionamento quindi lo puoi mettere veramente ovunque questa cosa ci ha colpito favorevolmente perché comunque può capitare che per poter comandare magari televisore e climatizzatore abbiate una linea che è un po particolare quindi collegandolo al soffitto magari risolvevate anche esteticamente è stato migliorato è un po più piccolino più fine nelle linee più leggero quindi anche avercelo in giro dava meno nell'occhio quindi un altro pro non di grandissima importanza però non è una grossa rilevanza però anche quello aiuta quindi tornando al discorso del lo posiziono dove voglio ho una linea un po più pulita anche se comunque abbiamo notato che non è che ne abbia grossi bisogni il rm4 perché perché comunque abbiamo notato rispetto al 3 che anche se la linea passatemi il termine di tiro del dell'infrarosso non era perfettamente pulita c'era qualcosa che poteva infastidirlo assolutamente abbiamo visto che subito al primo colpo accendeva spegneva il televisore alzava abbassava il volume con la app con la nuova app del 4 che si chiama broadlink semplicemente è successo che questa app è diventata universale per tutto il mondo per tutti i modelli cioè ci spieghiamo prima micchi vi diceva che appunto esisteva gli hc foreu per il comparto europeo e poi ce n'erano altre per il resto del mondo praticamente certo questo caso broadlink ha scelto di uniformare finalmente in un'unica app e dare una maggior solidità alla sua app naturalmente questo consente crash zero praticamente sì infatti lui da quando l'ha comprato mai mai sinceramente quello mai aggiornamenti probabilmente li faranno in maniera molto più celere fatta bene perché appunto nessuna interruzione di servizio diciamo meno male esatto e quindi questo è un ottimo aspetto in più è possibile importare intendo le credenziali di hc foreu in nell'app broadlink i dispositivi che avevate già configurato solo i dispositivi non tutte le scene che vi eravate create i tasti personalizzati solo i dispositivi altro punto a favore dell'rm mini 4 è stata l'installazione nei momenti in cui abbiamo cominciato l'installazione di questo prodotto già stavamo sudando freddo perché pensavamo al 3 speranzosi che comunque broadlink raccolto il sudore di tutto il mondo che abbiamo buttato dicesse di grazio ed effettivamente non ci ha deluso perché quando abbiamo fatto l'installazione è andato tutto bene ha avuto un problemino sempre nel riconoscimento ma poi facendo uno swap è riuscito a trovare tutto quindi su quello siamo contenti passiamo ai contro che non è che sono tantissimi in realtà ai contro però diciamo che ce n'è uno in particolare che ragazzi è un macigno enorme è tosto risolvibile ma attualmente è tosto allora se proprio vogliamo fare i pignoli per quanto riguarda il prezzo siamo sull'ordine tra i 24 e 25 euro se la giocano un pochettino poi quei pochi spiccioli non è un grossissimo problema ma il problema grosso adesso ve lo dice marco allora inizialmente si sono sempre potute creare le scene mettiamola così inizialmente potevi però creare solo la scena di accensione e spegnimento che dici vabbè ma che scena mi creo già lo deve fare di per sé e ci mancherebbe che non lo fa e quindi avevamo detto speriamo arriveranno aggiornamenti sicuramente da parte di brodi sì sono arrivati gli aggiornamenti come potrete vedere poi magari ve lo inseriamo in mezzo qui magari lo mettiamo qua esatto si possono creare le scene manca il tastierino numerico manca il tastierino numerico quindi io personalmente ci sto impazzendo mici uguale a me come facciamo a crearci una bella scena per cambiare canale mettere canale 5 italia 1 rete 4 eccetera eccetera faranno altri aggiornamenti speriamo lo speriamo vivamente voi avete qualche idea ce l'avete fatta perché noi sinceramente non troviamo il tastierino numerico quando andiamo a cercare di creare delle scene o meglio compare il telecomando virtuale ma non compare il tondino coi numerini cosa che per noi è fondamentale perché giochiamo molto con quello e penso che anche voi se dovete comandare il televisore gli dovete dire vai da un canale all'altro però se non vi dà la possibilità di inserire i numeri esattamente quindi io direi facciamo un appello a broad link che sicuramente non guarderà mai questo video però ci teniamo a dirlo divulgate anche voi magari in tanti ma avete avuto una marea di tempo tra l'uscita del 3 ed il 4 e tra l'uscita del 4 e oggi cioè santo cielo ma volete evolvere un pochettino e creare questo benedetto tastierino numerico avete fatto un'app che è molto più intuitiva rispetto a quella precedente ma mettete questi benedetti numerini in modo tale che uno riesca finalmente ad inserire dei canali per cambiare canale del televisore e poi non fate anche gli spocchiosi mettete anche l'italiano cioè allora va bene che noi saremo anche noi avevamo scelto il cinese mandarinico però è sì è vero abbiamo provato anche con l'aramaico cioè va bene tutto che noi lo sappiamo il cinese e quant'altro però l'italiano non è che ci farebbe schifo cioè anzi ci semplificherebbe un pochettino il lavoro già si impazzisce vabbè quindi purtroppo questo era il contro veramente pesante che se lo metto sul piatto della bilancia anche se i pro sono di più il contro qua veramente me la fa pendere ancora da questa parte io direi di passare alle considerazioni finali secondo noi poi naturalmente valutate voi se i pro e i contro dell'uno dell'altro vi convincono di più la considerazione può essere intanto se sei d'accordo che ad oggi tu col 3 fai quello che vuoi col televisore e io col 4 no allora col 3 faccio quello che voglio nella misura in cui gli va bene a lui perché se inizia a fare le bizze non ci sono santi finché lui non si riprende potete veramente parlare in aramaico non vi ascolta ma comunque ci siamo dilungati abbastanza adesso passiamo le considerazioni finali allora se volete un prodotto funzionale che quindi vi comanda qualsiasi cosa che faccia un po di capricci ma che comunque poi una volta settato di faccia 360 gradi qualsiasi cosa faccia il telecomando originale noi vi consigliamo il 3 ma se invece volete un prodotto più semplice da poter configurare sia con il vostro wifi sia con l'ex il vostro dispositivo sia coi prodotti allora vi consigliamo il 4 ma col 4 tenete presente che non avete la possibilità di remotare attualmente tutte le funzioni non potete copiare tutte le funzioni del vostro telecomando originale siete sempre limitati al cambio del canale alza e abbassa volume accendi e spegni le considerazioni che noi stiamo facendo qui alla fine sono semplicemente per dirvi se avete la pazienza di perderci più o meno 9 10 ore per poter configurare un prodotto che poi una volta che funziona finché funziona e dalla cina non vi fanno qualche sorpresa vi può comandare qualsiasi cosa vi consigliamo di prendere il 3 se invece siete poco pazienti e volete un qualcosa di molto più immediato che costi un pochettino di più ma che non vi faccia impazzire nella configurazione e avete fiducia nella società broadlink allora comprate il 4 però tenete presente che fate solamente quelle 3 4 cosettine trovate qui sotto i link che vi riportano ad amazon compresi link per il broadlink 3 e il 4 naturalmente potete darti un'occhiata e potete eseguire tranquillamente il vostro acquisto cliccando da lì vi rimanda direttamente ad amazon lasciate commenti se avete suggerimenti veramente per il 4 per la configurazione delle scene l'impostazione dei canali dei numeri l'utilizzo del tastierino come si fa vi preghiamo noi di scriverlo vi sconduriamo di dircelo veramente ci faremo un video opposto sì lo promettiamo assolutamente per questo video è tutto ragazzi ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao